Anna Neucia Mariconi, eletta vicepresidente dell'Unione dei Comuni, c'è una prima volta tra virgolette anche per Torano. Sì, ringrazio chiaramente tutti i sindaci per questa elezione che naturalmente mi dà molta soddisfazione ma anche un carico di responsabilità, mi metto a servizio di questa città territorio, dell'Unione dei Comuni Vallibrata, chiaramente in piena collaborazione con la neoeletta presidente Cristina Di Pietro. Le potenzialità di questo territorio sono ovviamente tantissime, come anche le questioni problematiche da affrontare, quindi cercheremo di farlo in uno spirito di piena collaborazione, come è giusto che sia, se si parla di unione è giusto che la collaborazione e il lavoro condiviso siano alla base di tutto. Lo abbiamo dimostrato anche presentando questa candidatura a Comunità Europea dello Sport e credo che lo possiamo fare in altri settori e in altre attività integrate, andando anche a valorizzare e a migliorare magari quei percorsi che ci vedono già da anni collaborare. Naturalmente un ringraziamento va al presidente Vagnoni, al vicepresidente Luzi e a tutti coloro che ci sono stati negli anni, diciamo in questi anni passati.